Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video vi mostrerò come funziona la nuova modalità competizione-resurrezione che ha rilasciato oggi la Rockstar su GTA V Online. Questa attività funziona come più o meno giocare a palla bip, adesso comunque sia vi spiegherò meglio. Incominciamo già dal fatto che quando avviate l'attività nelle impostazioni potrete scegliere i round, la durata dei round, i punti che sarebbe il punteggio prestabilito. Oltre a ciò il numero massimo di giocatori che può partecipare in questa attività sono 8 giocatori. Lo scopo principale di questa modalità competizione chiamata resurrezione è più o meno come giocare a palla bip. L'obiettivo principale è quello di eliminare tutti i giocatori della squadra avversaria, però quando voi killate un giocatore, quello giocatore non potrà spawnare fino a quando voi che avete ucciso quel giocatore non sarete morti, non sarete uccisi da un giocatore della squadra avversaria. Ad esempio, se io uccido 3 persone della squadra avversaria, quei 3 giocatori non potranno spawnare fino a quando un giocatore della loro squadra avrà ucciso me. Praticamente tutti i giocatori che ho ucciso io saranno liberi quando io sarò morto. Proprio come il gioco palla bip, sicuramente molti di voi avranno giocato a scuola a questo gioco o comunque sia conosceranno questo gioco. Quando sarete morti vi farà vedere la mappa dall'alto nella zona dove state eseguendo l'attività resurrezione. Ci saranno i giocatori della propria squadra segnalati con un cerchio azzurro o blu mentre i giocatori della squadra avversaria segnalati con un cerchio rosso. Il round terminerà dopo aver raggiunto il punteggio prestabilito dall'host dell'attività oppure quando sarà scaduto il tempo sempre prestabilito dall'host dell'attività. Ovviamente vince la squadra che ha ottenuto più punti in resurrezione nella partita ovviamente nei round impostati dall'host. Ci sono varie mappe per questa modalità competizione chiamata resurrezione un'attività davvero molto simpatica, assolutamente da provare anche perché vi fa guadagnare un casino di soldi soprattutto in questi giorni sfruttando i bonus dei soldi e dei repi doppi che la Rockstar ha rilasciato tramite questa settimana per cui non perdetevi l'occasione per guadagnare un sacco di soldi soprattutto se vincerete la partita. Per cui secondo me ne vale veramente la pena giocare questa attività specialmente in questi giorni con il bonus. Per cui niente ragazzi scrivete fra i commenti che cosa ne pensate riguardo questa modalità competizione spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social ed è ora che vedete tutto il nostro cinema, al prossimo video, bella!